L'artigianato Camuno fa tappa in Svizzera. A partire da questo mercoledì 31 marzo e fino al prossimo 27 giugno, la Maison Tavel Muse d'Art di Stouard di Ginevra ospiterà la Ragione Nelle Mani, mostra ideata da Stefano Boccalini e curata da Adelina von Furstenberg. Un evento che ha preso vita grazie alla sinergia dell'artista milanese con il distretto culturale della comunità montana di Valle Camonica che con il supporto di Art for the World Europa ha trionfato nell'ottava edizione del bando Italian Council il programma a supporto dell'arte contemporanea italiana promosso dal Ministero della Cultura. Il rapporto tra Stefano Boccalini e il distretto culturale perdura da diversi anni. Della scorsa estate il progetto Camon, sostenuto da Fondazione Cariplo, che ha come obiettivo la realizzazione a monno di un centro per l'arte e l'artigianato della montagna che sarà pronto Covid permettendo il prossimo giugno. Quattro gli artigiani Camonica hanno collaborato al progetto, Gina Melotti, Esther Minelli, Amerino Minelli e Alessandro Sandrini. Le opere che sono state realizzate non le hanno realizzate solo loro ma le abbiamo realizzate insieme a dei giovani della valle che sono stati selezionati con un bando fatto da comunità montana proprio per insegnarli intanto che hanno lavorato, hanno cominciato a imparare, sono nati dei rapporti. Io so che già qualcuno si sentono ancora con gli artigiani, sono andati a ritrovarli, stanno riprovando a fare delle cose e quando apriremo il centro sicuramente lì avremo anche dei laboratori e sicuramente riprenderemo ancora le fila di tutto questo percorso. La ragione nelle mani perché mette il rapporto, la questione manuale con la ragione intellettuale che non sono separate, sono la stessa cosa e quindi quando dici la ragione nelle mani c'è anche un doppio senso, non può essere la ragione che sta nelle mani ma è le mani che hanno la ragione, che hanno l'intelletto e quindi c'è questa doppia dimensione che è fondamentale. Le abbiamo realizzate partendo con questi laboratori di 15 giorni in cui sono state impostate, poi diciamo che nell'arco di un mese e mezzo tutto il lavoro è stato, circa un mese e mezzo o due, è stato costruito tutti i lavori che adesso sono qui. Le opere della ragione nelle mani hanno preso vita grazie ad un laboratorio che ha coinvolto tutti i bambini di Monno, qui è stato raccontato il significato di alcune parole intraducibili e uniche presenti nelle diverse lingue del mondo. Sono uno diverso dall'altro, sono assolutamente bellissime da vedere, di un'altissima qualità tecnica degli artigiani, si vede proprio che poi è fatto anche in collaborazione con molto sentimento, con molta precisione, sono bellissimi questi lavori.